Andiamo! 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 Finalmente ragazzi una bella prestazione! Mamma mia! Ce la portiamo a casa ragazzi! Stai con un po' di strizzarella perché alla fine ragazzi poi diciamo che ci dobbiamo sempre un po' cagare addosso però ragazzi finalmente ragazzi finalmente una buona partita! Una buona partita da parte nostra! Finalmente! Finalmente! Sono contento! Sono veramente contento della prestazione! Ragazzi però prima mi raccomando prima di partire con il video vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se non siete iscritti attivate la campanellina così ogni volta che pubblico il contenuto vi arriva la notifica infatti ragazzi ogni volta che vi iscrivete c'è la campanellina cliccate sulla campanellina e scrivete e selezionate tutte significa che così ragazzi per ogni video che pubblico vi arriva la notifica e ogni volta non dovete stare a cercare Gabriele Cipiano su Youtube lo dico per voi! Mi raccomando guardate questo video dall'inizio alla fine e lasciate un bel like al video per supportarmi ragazzi in modo tale da poter portare altri nuovi contenuti oggi ritorno al campionato, oggi ritorno alla Serie B, ritorno al Palermo domani giocherò all'Inter ma ripeto oggi ragazzi parliamo del nostro Palermo ragazzi che finalmente torniamo alla vittoria con una buona prestazione sono contento, sono contento! Parleremo anche del gol subito che non mi è piaciuto per niente però ripeto in primis parliamo della partita, parliamo del risultato parliamo di quei tre punti che finalmente arrivano finalmente, 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 finalmente sono molto contento, sono molto soddisfatto vinciamo per 1-3 in casa della Juve Stabia che non è sicuramente un campo per nulla facile la sblocca Segre con un bellissimo gol ragazzi al 18esimo su un assist di Di Francesco che fa un bell'assist, praticamente un cross dalla tre quarti di sinistra perché noi comunque nel primo tempo attaccavamo da destra verso sinistra quindi Di Francesco dalla sinistra, un cross in mezzo ragazzi sembrava un cross sbagliato, comunque praticamente preda facile della testa del difensore della Juve Stabia è bravo Segre ad anticipare il difensore della Juve Stabia con un tiro al volo, penso che l'abbia presa di esterno buca il portiere ragazzi sul primo palo e fa 1-0 Jacopo Segre ragazzi che ormai sappiamo bene che è una pedina fondamentale di questo Palermo sia in fase di costruzione ma sia soprattutto in fase offensiva ragazzi è uno dei centrocampisti che anche l'anno scorso ha fatto più gol in Serie B quindi sicuramente ragazzi è un calciatore che ci serve ricordiamoci che le prime partite non le abbiamo avuto adesso l'abbiamo quindi sfruttiamolo nel migliore dei modi poi ragazzi al 43esimo Henry fa un gol di testa ragazzi anche qui assist di Francesco che ripeto stasera o sto pomeriggio on fire fa addirittura doppio assist cross sempre dalla tre quarti di sinistra sul secondo palo ragazzi Henry deve solamente schiacciarla non viene marcado dai difensori della Juve Stabia e quindi 0-2 a fine primo tempo e già qui ragazzi ho guardato i primi post su Instagram no, sul Palermo già tutti io dico sempre ragazzi che non bisogna mai sputare nel piatto dove si mangia tutti già subito a giudicare Brunori perché comunque Henry bisogna dire che ha fatto un'ottima partita sia in fase offensiva perché comunque ripeto serve il gol comunque fa il gol del doppio vantaggio ma ragazzi è stato molto bravo in fase di costruzione nel momento in cui bisognava aiutare la squadra nel momento in cui bisognava tenere palla per far salire la squadra ha fatto veramente una buonissima partita Henry però ragazzi ripeto per quanto a me Brunori non faccia impazzire perché ripeto a me come attaccante non è che mi faccia impazzire per me Brunori poi tra l'altro non è proprio adattissimo a fare la prima punta nonostante in tre anni col Palermo abbia fatto più di 60 gol però ripeto lo vedo più da seconda punta un giocatore che deve giocare dietro ad Henry e svariare non ai movimenti invece diciamo che il Palermo l'ha sempre sfruttato da prima punta però ragazzi non mi sento neanche di dire ah finalmente un attaccante è buono finalmente abbiamo un attaccante come se non l'avessimo mai avuto un attaccante ragazzi per me questo non è giusto nei confronti di Brunori nonostante ripeto nell'ultimo periodo non è che abbia spiccato nelle prestazioni, nel comportamento di quello che ha rilasciato le dichiarazioni d'estate tutto quello che volete ragazzi tutto quello che volete però ripeto dire addirittura dopo una partita buonissima di Henry ah finalmente abbiamo trovato abbiamo un attaccante abbiamo come se non l'avessimo mai avuto non mi sembra giusto neanche nei confronti di un giocatore che è stato è stato il capitano del Palermo non mi sembra assolutamente corretto nei suoi confronti fatto sta che comunque concludiamo il primo tempo sul risultato di 0 a 2 poi ragazzi prendiamo un gol al 61 da Adorante o come oggi l'ho soprannominato io Diodorante al 61 ragazzi prendiamo un gol veramente di una stupidità incredibile io già ero lì pronto a incazzarmi perché ho detto adesso in qualche modo ci faranno il secondo e finirà 2 a 2 o addirittura la perderemo questa partita ragazzi io già ero pronto ero già psicologicamente pronto fatto sta che al 61 prendiamo questo gol da Diodorante praticamente una palla messa in mezzo Adorante lasciato proprio da solo alle spalle di tutti di Akite che dorme lì di Akite ragazzi in fase offensiva aiuta tanto ma in fase difensiva spesso i buchi li lascia comunque questa palla in mezzo Adorante da solo che di esterno tira una morzellina a desplasci che anche lì secondo me poteva e doveva far meglio però ripeto l'errore maggiore è della difesa che quella palla l'ha fatta passare ha lasciato da solo Adorante e poi in secondo piano ragazzi anche nel splash lì poteva fare assolutamente meglio fatto sta che poi al 72 entra Lund per Pierozzi che si fa male addirittura non ho capito neanche come si è fatto male Pierozzi ragazzi rimane fuori dal campo entrano diciamo lo staff dei sanitari per diciamo fargli le cure necessarie addirittura è dovuto entrare da fuori nel senso si è dovuto fare tutto il giro del campo perché Pierozzi è rimasto fuori dal campo quindi noi abbiamo dovuto giocare anche in dieci per un paio di minuti infatti poi viene sostituito con Lund e allo stesso tempo esce e riede entra Matteo Brunori lì ragazzi Brunori bravissimo Matteo perché si prende un bel fallo non mi ricordo chi è che gli fa il fallo comunque anticipa il calciatore della Juve Stabia che praticamente poi lo butta giù si fa male tra l'altro anche il difensore della Juve Stabia ma rigore che ci sta assolutamente Matteo che si presenta sul dischetto Matteo che si presenta sul dischetto e che la butta dentro ragazzi rischiata qui perché il portiere della Juve Stabia l'aveva intuita gli passa praticamente sotto al fianco ripeto grazie a Dio però ripeto sono contento sono contento della partita sono contento della prestazione adesso dopo questa partita ci andiamo a posizionare al nono posto va benissimo siamo tra l'altro a soli due punti dal primo posto ovvero occupati dal Brescia e dallo Spezia però c'è per esempio il Pisa terzo a otto punti che ha una partita in meno quindi che potrebbe andare a undici punti quindi diciamo che ipoteticamente il primo posto potrebbe essere a meno quattro però ripeto noi il nostro oggi lo abbiamo fatto sono contento dovevamo fare il nostro oggi o si vinceva o si vinceva non c'erano mezze misure oggi dovevi vincere contro la Juve Stabia ragazzi che comunque nelle prime quattro partite ha fatto veramente il devasto perché comunque nelle prime quattro aveva fatto due vittorie e due pareggi quindi addirittura era ancora imbattuta in campionato e in casa quindi oggi addirittura la batti batti una squadra che ancora era imbattuta in Serie B nelle prime quattro ma addirittura la batti anche in casa quindi ancora meglio però continua a starci sopra la Juve Stabia è quarta a otto punti noi siamo a sette ma ripeto ragazzi il campionato è iniziato ora la classifica è molto corta cerchiamo di non far cagate complimenti a Dionisi complimenti alla squadra complimenti a tutti ragazzi abbiamo fatto una buonissima partita io ovviamente come ho già detto voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti scrivetemi chi secondo voi è stato il migliore in campo chi è stato il peggiore magari poi vi metterò il sondaggio anche quindi mi raccomando andatela a votare noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi e sempre Forza Palermo